Siamo con Gerardo Scotti, presidente dell'Associazione Genesi che, come abbiamo più volte ribadito, si occupa da più di un anno di questa zona e della sua riqualificazione, nonché della cura di tutti i piccoli animaletti che quotidianamente tantissimi bambini, ma anche associazioni che si occupano di persone diversamente abili, famiglie, anziani, insomma, vengono qui per trascorrere qualche ora insieme alla natura e ai suoi animali. Da diversi giorni, Gerardo, ci sono un po' di polemiche, soprattutto sui social, per quanto riguarda la vegetazione presente all'interno del fiume Testene. Ecco, in tanti chiedono di rimuoverla per la paura di un'esondazione e la possibilità, insomma, di una intensa pioggia, ma al suo interno tu hai spiegato più volte che ci sono degli esseri viventi. Ecco, vogliamo far capire, telespettatori di Cilento Channel, che cos'è che c'è sotto quel rigoglioso cespuglio di erba? Allora, incominciamo a dire che il fiume Testene è caratterizzato da una serie di tipi di vegetazione, tra l'erbacea, l'alborea e l'arbustiva, con piante agrifore come il pioppo e il salice che rappresentano insieme alle altre piante un ponte termico importante per il fiume. Tutta la struttura del fiume da qua a Monte Vizzuto è caratterizzata da questo ambiente fatto di canneti, giuncheti e piante igrofile. Quest'anno è cresciuto un attimino un po' più di vegetazione, siamo arrivati tardi per cercare di gestire il problema, perché non è semplice fare delle scelte quando si stanno facendo delle ricerche importanti. Nel Testene abbiamo avuto diverse specie di animali in sofferenza, ci siamo accurati tramite relazioni di biologi che questi animali erano in sofferenza, perché nel Testene nel momento sbagliato il sindaco ha spiegato ampiamente tutto, venivano fatte delle pulizie che erano un momento di disturbo per il fiume e quindi queste specie sono veramente scese in sofferenza fino a quasi sparire. Stiamo facendo anche un programma di rivoluzione in tal senso. Che succede? Che adesso nel fiume è cresciuto questo sistema erbaceo di canneti e questo sistema di giuncheti, dove gli animali sono andati a edificare. Qua edificano 40 specie diverse di uccelli e in quei canneti stanno nascendo anguille, anguille, rane, rospi, pesci, pesci di cui le nostre Londres si nutrono. In Italia con una popolazione censita su internet di 800 Londres, che noi crediamo che sia una popolazione di basso, avendo nel Testene una famiglia di 10-14 Londres, riteniamo che questa sia una realtà così importante da difendere a tutti i costi. La Convenzione di Berna ci impedisce in questo momento, stiamo interpretando un attimino le leggi, di distruggere, di alterare l'abito dove l'animale viene a manciare. Speriamo nei prossimi anni di avere un sistema di controllo e una collaborazione dell'amministrazione che quest'anno purtroppo un attimino è stata lì sospesa perché c'era un concessionario diverso che ci ha impedito di fare determinati lavori. Speriamo che l'anno prossimo riusciamo a dare alla città un fiume prima di tutto più vivibile, poi una realtà bellissima dove poter incontrare animali che vedete soltanto sulle encirapetie. Quindi dovete avere pazienza, stiamo cercando di lavorare per voi, rimuovere i sedimenti o uccidere l'erba in questo momento significherebbe non solo a rischio la vita degli animali che stanno in quella vegetazione da cui traggono sostentamento assoluto, ma si porterebbe anche del limo a mare fatto di metalli pesanti e si metterebbe a rischio anche la salute delle persone che in questo momento già hanno tanti problemi e stanno passando le vacanze sulle nostre spiagge. Quindi un po' di pazienza, abbiamo rilevato con istinto che questa mattina alcuni problemi, alcuni punti dove intervenire che sicuramente metteremo in atto nei prossimi mesi, in questi giorni e l'anno prossimo saremo più pronti. Purtroppo la vegetazione al fiume in questo momento rimarrà così com'è, faremo dei lavoretti intorno per renderla un pochino più sbarazzina come un taglio di capelli, però nessuno toccherà la vegetazione fino a quando la vegetazione non comincerà in modo naturale a seccare. Importante un altro fattore, non abbiamo piogge, quindi il fiume del Sene che nasce da Monte Pizzuto a 1036 metri si alimenta soltanto da quella sorgente e da una trentina di sorgenti laterali come l'acqua santa, Frascinelle, quindi in questo momento noi stiamo avendo nel fiume un'acqua di sorgente di una qualità eccezionale che scorre a un livello molto basso, quindi non abbiamo il ruscellamento delle piogge, non possiamo intervenire a rimuovere elementi dal fiume perché l'acqua non verrebbe diluita e creeremo un disastro ecologico anche a mare. Dobbiamo aspettare le prime piogge, quando il fiume incomincerà ad avere un livello che noi riteniamo giusto è come quando voi lavate a casa fuori con la bomba e cerca di spostare le petruzze, se non avete la pressione giusta le petruzze vi restano là. Quando avremo le condizioni giuste con il nostro geologo, con il nostro biologo capiremo e segneremo quel punto in cui fare quel tipo di pulizia e come intervenire. Già abbiamo messo giù dei progetti, già abbiamo dato al sindico delle indicazioni per quanto riguarda i mezzi, il modo di intervenire, che ci ha redato il nostro architetto Pantelli insieme a altre persone che stanno collaborando al progetto come il nostro ingegnere ambientale e altri. Quindi dateci la possibilità di farvi vedere questa realtà con un occhio un attimino diverso.